Personalmente ho visto nella mia vita, dal 53, che ero diventato professionista, fra brasiliani, uruguayani, argentini, europei, Di Stefano, Pelé. Il calcio è più che altro una questione d'opinione, tu non puoi dire chi è meglio di chi. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Al prossimo episodio 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 Al prossimo episodio